Come guarda con questa faccia? Ma non lo so Sai che mi sembra un po' strana oggi? C'è qualcosa che non capisco Non ha capito? No, però io mezz'ora che la guardo C'è qualcosa che non mi quadra Non capisco bene Ho cambiato vestito No, no, no Scusi un secco, può alzarsi un secondo? Regia Venga un po' qua a darla Non l'ho capito, scusate Darla? Che è successo, scusate Che è successo a lei? Non è successo niente Io non vorrei dire, ma che ha fatto alla bocca? Niente Che ha fatto? Lei che ha fatto alla bocca? Ma io non ho fatto niente Sono truccata a questa pone A me mi sembra un po' più truccata del solito Mi sembra anche No, è soltanto che mi sto preparando Perché io so che lei Insomma, due settimane fa l'abbiamo vista Che è andata al bagaglino Ha fatto la serata tutta su di lei Grazie Il pingitore mi ha puntata Io ho scoperto che il pingitore mi ha puntata No, scusi, che senso? No, sta organizzando Secondo me sicuramente Dopo aver fatto fare questa puntata a lei Sta pensando di fare Darla al bagaglino Infatti volevo dire anche Cito Mi dispiace Siccome tu ancora non ti sei fatto a vivo Se il pingitore dove sei Insomma, siccome mi ha puntata No, ma scusi Mi sono fatta lei per il bagaglino Mi sono fatta preparare questo vestito Un po' ispirato anche a quelli che ha indossato lei Ah, sì? Eia Cioè, guardi, è troppo bello Sono emozionata Si simbaccia Questo lo devo mettere proprio io Guardate Cioè, guardate che bello Scusi Sì, è troppo bello Questa è la gruccia No, questa è la gruccia E questo è il vestito Anche tutta questa parte Che viene anche tutta fasciata da questo filo Insomma, tutta questa parte qui Tutta fasciata da questo Cioè, questa è la struttura dove poi dentro va il vestito No, questo è il vestito Mi scusi È tipo il suo, quello che aveva lei Più o meno lo stesso Questo è il vestito Poi adesso non è stirato Insomma, non si vede bene tutto l'effetto Comunque, insomma, a parte il vestito Che speriamo che non mi si guacisca No Ehm, insomma, io ho preparato anche questo piccolo balletto Ehm Anche, insomma, lontanamente ispirato anche a quello che ha fatto lei Cioè, non è che lei mi copia No, assolutamente E poi cerca di fare le cose che ho fatto io Perché questo sarebbe brutto da parte sua No, assolutamente, lei pare No, no, no Io mi ispiro perché lei, insomma, lo sa che mi ispira molto Però io non la copierei mai Anche perché, insomma, non mi piaccia Va bene, grazie Ehm, comunque io avrei due ballerini Se possono venire Anche i ballerini? Ehm, sì, anche lei l'ha fatto con i ballerini Sì, ho capito Ma lei è proprio Anche io li ho Ecco i miei ballerini Potete venire un momento Guardi, io, non so, mi sposto Ecco, ecco, questi sono i miei ballerini Vabbè Sì, grazie Senta, scusi se mi perdite Ehm, mi dite Allora, io mi sposto un attimo E le faccio fare il suo numero Si vuole spostare un momento? Ah sì, si sposti pure Ehm, si sposti Allora, il pezzo, ecco, questo Voi siete così ai latti E inizia così Ehi, ehi Gli spari sopra Sono per voi Un momento che mi devo anche un pochino togliere Questa cosa Per fare un po' l'effetto Dov'è signora Alba? Oh, mi scusi Oh, mi scusi Non l'ho fatto apposta Ecco, continua Ehi, ehi Gli spari sopra Sono per voi Beh, insomma, mi dovete prendere Si sono scordati un po' il balletto Ehi, ehi Gli spari sopra Sono per voi Ehi, ehi Gli spari sopra Sono, aiutatelo Aiuto, non ho capito Scusate Ma sono così stretto Adesso anche un po' giù Ehi, ehi Gli spari sopra Sono per voi Ehi, ehi Gli spari sopra Sono per voi Andate, è via Per questo momento è tutto mio Ehi, ehi Gli spari sopra Sono per voi Ehi, ehi Adesso faccio la scena finale Che è questo E poi, scusate Siccome io sono contraria Alle cose sintetiche No, io Questa è la giusta finale Però c'è neanche un altro Perché io sono contraria Alle cose sintetiche Ed è questo Ehi, ehi Vanno a fare una trepolata Ci vediamo dopo Benito sopra Grazie a tutti Grazie.